Un lampo di calore in aria è quello che ha rilevato un satellite infrarossi statunitense al momento della caduta dell'Airbus turistico russo nel Sina e di ritorno da Sharm el-Sheikh. Gli analisti del Pentagono che stanno analizzando le registrazioni satellitari spiegano che perciò l'aereo non è stato abbattuto da un missile, ma potrebbe essere esploso in volo a causa di una possibile bomba. La scoperta del lampo di calore nel mistero dell'aereo della Metrojet, in cui sono morte 224 persone, ha comunque messo d'accordo sia Russia che Stati Uniti nell'analisi delle cause dell'incidente. Sono centinaia, migliaia i fiori deposti a San Pietroburgo, davanti all'obitorio che ospita i resti dei turisti russi morti nel deserto del Sinai. Visto che l'esplosione si è verificata in volo, le possibili cause dell'incidente sono una bomba a bordo o lo scoppio di un incendio. Sfatato, secondo gli USA, il possibile lancio di un missile che avrebbe potuto compiere solo un esercito vero e proprio. Il numero dei lampi verificatisi in volo è determinante, ha spiegato l'esperto di evazione americana Milo Brienne alla CNN. Se infatti ne risulta solo uno, si avvalora l'ipotesi di un'esplosione a bordo. Intanto, sul luogo dell'incidente sono stati ritrovati degli elementi anomali tra i resti dell'aereo, mentre dall'esame della scatola nera risulta che tutto era a posto fino a quattro minuti prima della caduta. Il dispositivo ha però registrato dei suoni non ancora identificati, ma a prima vista estranei a un volo di linea regolare.